Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i rifiuti perché è stato accolto positivamente il nuovo piano regionale da poco messo a punto dalla regione Abruzzo. WWF e Legambiente chiedono però alcuni correttivi e un impegno preciso per il rispetto delle tempistiche contenute nel documento. Obiettivo? Evitare gli inceneritori. Il servizio è di Alfredo Primante. WWF e Legambiente sono sostanzialmente soddisfatte del nuovo piano dei rifiuti varato dalla regione Abruzzo. Valutato positivamente soprattutto il rafforzamento dell'economia circolare, in grado dicono di offrire nuove opportunità di lavoro e una migliore qualità della vita dei cittadini. Quello che viene osservato è il ritardo con cui si sta mettendo mano all'impiantistica, centro del riuso, centri di raccolta e piattaforme ecologiche. Poi c'è l'obiettivo del 70% di differenziata nel 2022 che per WWF e Legambiente può essere conseguito solo attraverso una spinta decisa al porta a porta, soprattutto nei grandi agglomerati urbani. Da questo punto di vista un incentivo importante alla differenziata potrebbe arrivare dall'introduzione della tariffazione puntuale delle utenze domestiche. Sicuramente va fatto un ragionamento di tariffa puntuale, in maniera tale che si paghi effettivamente ciò che io produco di rifiuti, ciò che io mando ad indifferenziato e se non faccio una buona raccolta differenziata. Questo è un sistema importantissimo che non solo convince ancora di più il cittadino, tra l'altro è un sistema sperimentato in tantissime realtà, quindi voglio dire non così difficile da implementare, soprattutto noi chiediamo un'azione maggiore nei confronti di quei comuni che sono superiore ai 20.000 abitanti. Questo perché? Perché è lì che ci sono la maggior quantità di rifiuti e è lì che si deve intervenire fortemente. Lo sparocchio da evitare e respingere resta quello degli inceneritori. La Regione, attraverso il sottosegretario Mazzocca, ha più volte dichiarato che questo piano dei rifiuti punta ad allontanare l'ipotesi di costruzione degli impianti previsti dal Governo nazionale. Affinché così sia, dicono le associazioni ambientaliste, bisogna fare presto e bene. Ovviamente il piano deve essere portato a compimento, è sempre un'azione di contrasto tra quella che è l'azione governativa nazionale e quella che la Regione sta cercando di mettere in campo appunto spuntando su delle politiche di economia circolare. Il problema vero è capire come usciamo fuori da questa fase di transizione e quindi è un'attività che va attenzionata, supportata affinché vinca il discorso dell'economia circolare che è anche un discorso a nostro avviso molto simile al tema della petrolizzazione e della cementificazione ovvero un nuovo modello di gestione non solo ambientale, economica ma anche sociale. Intanto la Regione ha inviato al Ministero dell'Ambiente una relazione contenente le previsioni di fabbisogno di incenerimento stimate in 57.000 tonnellate annue oltre il 50% in meno rispetto alle stime governative. Tali quantitativi, secondo la Regione Abruzzo, non giustificano la costruzione di un impianto di incenerimento. Le visita dei carabinieri forestali di Pescara stamattina a Laca sono stati sequestrati Gliatti, gara per l'adeguamento del depuratore di Pescara. I carabinieri hanno eseguito il sequestro su disposizione della Procura di Pescara il PM è Anna Rita Mantini. L'inchiesta della magistratura riguarda l'adeguamento del depuratore dell'importo di oltre 7 milioni di euro. La Procura ha ipotizzato il reato di frode nelle pubbliche forniture a carico di ignoti poiché la gara è stata bandita con il permesso di costruire e l'autorizzazione regionale entrambi scaduti. Ancora news è terminata questa mattina intorno alle 4. La riparazione del guasto che rischiava di aggravare la già critica situazione acqua in Val Vibrata. Ad annunciarlo la Ruzzo che sottolinea come i disagi per la popolazione siano stati molto limitati grazie ad alcune manovre preventive sulla rete che hanno consentito di far pervenire comunque parte del flusso alla vallata attraverso altre adduttrici. Restano in ogni caso le criticità relative all'approvvigionamento idrico collegate al perdurare delle alte temperature e agli elevati consumi pro capite registrati che come sottolinea il Ruzzo saranno superate appena verrà rilasciato il nulla osta alla messa in esercizio del potabilizzatore di Montorio al Vomano. Il nulla osta da parte degli organi di controllo preposti secondo l'acquedotto è atteso nelle prossime ore. Cronaca adesso insegue un coetaneo con lunghe forbici per colpirlo. La squadra mobile dell'Aquila ha denunciato così un giovane aquilano residente a Rieti con numerosi precedenti. Daniela Rosone. Un aquilano di 26 anni è stato denunciato per minacce aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Nella tarda serata di ieri infatti il personale della squadra a volante della Questura è intervenuto presso il terminal di Collemazzo riuscendo a fermare in tempo fortunatamente un giovane aquilano residente a Rieti con numerosi precedenti di polizia mentre armato di una forbice di circa 22 centimetri di lunghezza inseguiva un giovane cittadino marocchino a suo coetaneo. La discussione tra i due è sorta all'interno del bar del terminal bus per motivi legati a situazioni pregresse evidentemente ancora in sospeso. L'aquilano nel diverbio ha reagito in modo scomposto e ha inseguito il marocchino costringendolo alla fuga. Gli agenti di polizia hanno notato poi il giovane italiano inseguire il fuggitivo con il chiaro intento di colpirlo con l'oggetto appuntito che brandiva nella mano poi rivelatosi essere una lunga forbice. Dunque hanno interrotto l'inseguimento riuscendo a intervenire e a disarmare l'aquilano prima che portasse a termine il suo proposito criminale. Dopo gli accertamenti di rito il giovane aquilano è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di minacce aggravate e porto in giustificato gli strumenti atti ad offendere. Ancora cronaca, l'incontro tra Fitim Coldashi Albanese di 27 anni con il rom Manuel Spinelli di 22 sfociato poi nell'omicidio di quest'ultimo sarebbe stato casuale. E quanto emerso dall'interrogatorio in carcere a Coldashi arrestato per omicidio è avvenuto qualche giorno di distanza dalla dimissione dall'ospedale. L'albanese ha scelto di parlare al GIP Giovanni De Renzi raccontando la sua versione dei fatti che sostanzialmente conferma quanto ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti nell'area. Assistito dai suoi legali gli avvocati Paola Pedicone e Antonio Di Gaspare Coldashi ha confermato la casualità dell'incontro le parole grosse e volate con i tre rom la decisione di scendere per rispondere e poi la scazzottata. Il 27enne ha dichiarato di aver tirato fuori il coltello che portava con sé solo per difendersi e di non essersi accorto della gravità della situazione. Una versione che confermerebbe quanto emerso fino ad oggi dalle indagini delegate al nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Teramo coordinati dal capitano Roberto Petroli. Spinelli il 20 giugno scorso era stato a cena con il padre e un'altra persona in una pizzeria di Alba Adriatica. All'uscita l'incontro casuale con l'albanese che in quel momento stava passando in auto. Secondo la ricostruzione di quella sera l'albanese sarebbe passato vicinissimo al gruppetto con la macchina. I filmati hanno ripreso l'albanese scendere dall'auto e iniziare a discutere con i tre poi la scazzottata. Nel video si vedrebbe anche uno dei tre rom cercare di sedare la rissa ma senza riuscirvi. Poi fennenti sferrati dall'albanese con due coltellate che hanno raggiunto mortalmente Spinelli al volto e al cuore. Cambiamo decisamente argomento. Il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani continua a scrivere ad Anas per la messa in sicurezza delle gallerie sulla variante alla statale 16 che attraversa la città e che è stata teatro di recente lo ricorderete di un incidente in cui ha perso la vita un 29enne di Rocca Montepiano Vito Liberatore. Luciani chiede l'installazione di tutor e di sorpassometri questi ultimi promessi nel 2011 e mai entrati in funzione. Ascoltiamo il sindaco. Io sono veramente arrabbiato con Anas perché questo argomento torna tristemente alla ribalta ogni volta che c'è un incidente un incidente grave però per noi è sempre stata la ribalta finalmente abbiamo ottenuto un successo guardate qui questo è un articolo che pubblicava un giornale un quotidiano locale gallerie arriva il sorpassometro dopo una nostra ennesima sollecitazione peccato che questo articolo ha la data del 3 settembre 2011 e da allora non abbiamo mai smesso di scrivere alla prefettura all'Anas alla regione a tutti i soggetti interessati senza però ottenere nulla nell'ultima lettera che ho qui che è del 20 giugno 2017 protocollata col numero di protocollo 21 252 del comune rileviamo anche che dopo le gallerie e le piane c'è il tratto di illuminazione spenta ormai da un anno e mezzo due anni e non si capisce come una società come Anas e Seppiano riesca a fare una riparazione di un impianto o per fare una riparazione di un impianto ci metta due anni ma c'è di più abbiamo chiesto come comune di intervenire noi direttamente ci dessero l'autorizzazione a installare un sorpassometro o un sistema tutor lo facciamo noi a nostre spese come comune di Francavilla al mare ma c'è stata negata l'autorizzazione perché l'allora capo compartimento dell'Anas ci disse no Anas fa le convenzioni con la polizia stradale quindi lo faremo noi sia tranquillo e fece uscire questo articolo che vi ho appena fatto vedere sei anni altri due tre incidenti mortali incidenti continui gallerie pericolose non sappiamo più a quale santo rivolgerci per questa cosa che qualcuno inizi a pagare per le sue responsabilità ora basta io pretendo che Anas intervenga domani mattina non fra un anno sei mesi no domani mattina devo venire capo compartimento Anas a Francavilla io lo accolgo e deve dirmi i tempi di intervento perché questa situazione non può andare oltre le gallerie tra l'altro sono vitali per Francavilla insomma Francavilla ha atteso anni che si aprissero queste nuove vie di comunicazione che tolgono traffico dal centro città senza quelle gallerie Francavilla diventerebbe immediatamente una città invivibile io devo dire che dei passi avanti sono stati fatti piccoli passi avanti sono state ristrutturate queste gallerie certo ci si è chiesto perché avessero bisogno di ristrutturazione a pochi anni dalla costruzione tutto bene Anas ha ristrutturato e quindi qualcosina è stato fatto ora deve agire sulla sicurezza degli utenti Sciopero degli straordinari alla Sevel di Atessa la FIOM CGL ha infatti proclamato otto ore di astensione dal lavoro per i sabati primo e otto luglio e domenica nove luglio la Sevel dice una nota della FIOM ignora ancora una volta le esigenze e le difficoltà di chi lavora in fabbrica sono cinque le giornate interessate da straordinari e turni di recupero e c'è chi finora ha già prestato da gennaio a oggi lavoro sul weekend per ben 12 volte un numero elevatissimo riteniamo la decisione assolutamente sbagliata perché le temperature sono altissime e perché dopo aver profuso tanto impegno è giusto essere messi nelle condizioni di poter dedicare del tempo alle famiglie di fronte a volumi in crescita l'azienda avrebbe dovuto assumere a tempo indeterminato le persone che già da tempo lavorano in una condizione di precarietà contrattuale ma inoltre sottolineato aggiunge la FIOM che nel corso degli ultimi anni i carichi di lavoro sono cresciuti a dismisura le pause ridotte gli straordinari sono diventati una pratica normale e le ferie fruite in periodi non compatibili con le esigenze di chi lavora e all'Aquila c'è un nuovo presidente per la CNA si tratta di Gianfranco Torelli confermato il direttore Agostino del Re sono i responsi dell'assemblea elettiva svoltasi nella nuova sede dell'associazione Germana Dorazzi Connessi al cambiamento è stato questo il titolo dell'assemblea quadrennale elettiva della CNA all'Aquila che si è svolta nella nuova sede dell'associazione sempre in via Pescara alla presenza di autorità istituzionali e tanti associati in unzio apostolico Monsignor Orlando Antonini ha tenuto a battesimo l'apertura della nuova sede della CNA all'Aquila l'assemblea poi ha rinnovato gli organi del consiglio direttivo i revisori dei conti e l'ufficio legale Agostino del Re rimane il direttore dell'associazione che ha condotto per vent'anni anni duri di cambiamento e lavoro ma che non hanno mai perso di vista il territorio e la coesione tra gli associati le potenzialità dell'artigianato è che noi abbiamo in Italia che il 97% è sotto a 10 dipendenti quindi pertanto detiene il 55% dell'occupazione e circa il 50% del prodotto interno lordo chiaramente le difficoltà della piccola e media impresa sono quelle di poter far capire a quello che sono in realtà spesso istituzionali politiche anche di governo qual è il vero ruolo dell'artigianato e mi spiego ancora meglio laddove la impresa oggi come oggi si adopera e insiste nel radicarsi e sviluppare tutta la sua economia nel territorio poi non c'è cosiddetto ritorno e nella fattispecie anche il mondo del credito a volte non è sensibile a quello che può essere la realtà che noi rappresentiamo è stato poi nominato il nuovo presidente della CNA all'Aquila Gianfranco Torelli ma certamente la prima sfida è un cambiamento andare verso nuovi mercati nuove opportunità riscoprendo e supportati dai valori fondanti della CNA che sono quelli del lavoro onesto naturalmente del saper fare e le sfide sono nella valorizzazione di queste abilità questo è l'aspetto più importante attraverso delle politiche che bisogna sviluppare d'accordo con le amministrazioni per poter trovare un ambiente adeguato idoneo a far sviluppare le competenze che questo territorio queste abilità che questo territorio dispone il trasporto pubblico di Lanciano manca di informazioni essenziali come prescritto dal codice della strada è il risultato dell'indagine presentata ieri da Arco Consumatori e Ascom e non si hanno notizie del paventato piano urbano del traffico vediamo Arco Consumatori e Ascom denunciano il persistere del disinteresse dell'incuria da parte del comune di Lanciano di dotare la città di un sistema di fermata degli autobus che garantiscano informazioni protezione delle intemperie accessibilità e sicurezza agli utenti come prescritto dal codice della strada lo chiedono i cittadini e le forze produttive dicono in conferenza stampa Francoveni e Angelo Allegrino ma soprattutto lo richiede lo sviluppo turistico della città che oltre alle piste ciclabili deve poter contare sul trasporto pubblico per ridurre il traffico l'inquinamento e garantire la funzionalità ed efficienza del trasporto pubblico dal sondaggio fatto da Arco che ha testato con propri rilevatori la qualità percepita del servizio fornito dall'azienda di Fonzo titolare della Convenzione del Trasporto Urbano è emerso che tutti i parametri testati sulle principali dieci linee in vigore sono risultati corretti e positivi sia dalla rilevazione diretta effettuata sui mezzi sia dall'opinione degli utenti verificata le fermate ciò che manca dunque è il servizio a terra ma che fine ha fatto il piano urbano del traffico? soprattutto per quanto riguarda l'attrezzatura a terra cioè mancano le pensiline la gente conosce a malapena i percorsi che fa abitualmente ed è costretta a scendere e salire in posti non certamente segnalati e spesso a rischio quindi è un trasporto che nonostante la qualità del servizio sugli autobus che devo dire per le nostre indagini sono buoni efficienti con un personale anche adeguato per quanto riguarda tutta l'attrezzatura a terra siamo nella casma cioè non c'è un riferimento non si sa dove vanno a finire gli autobus questo pomeriggio alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Pescara si svolgerà la presentazione del libro le imprese oltre la crisi del professor Oronzo Trio docente dell'università del Salento oltre all'autore del libro interverranno la commercialista Luana Cinzia Rosselli e lo scrittore Alfredo Carosella il volume analizza la crisi economica scoppiata all'indomani del fallimento della Lehman Brothers e le conseguenze su consumatori e imprese e le strategie proattive per fronteggiare la recessione una delegazione della città cinese di Fuzù capitale della provincia del Fuzuan questa mattina è stata ricevuta nel palazzo di città di Pescara si tratta per eventuali investimenti cinesi nel settore dello sport in discussione anche il progetto della cittadella sportiva messa a punto dall'amministrazione Alessandrini Sindaco ospiti in città una delegazione di investitori cinesi Pescara si apre all'Oriente sono stato in Cina tre settimane fa circa sul solco che il sistema produttivo abruzzese guidato da Proger da Pescara Calcio e da Camera di Commercio aveva tracciato nell'immediatezza dopo Pasqua i tempi sono rapidissimi e già c'è il progetto in una realtà il governo cinese va molto sul serio sul calcio ha previsto obiettivi vincere la Coppa del Mondo entro il 2050 e finanziamenti il calcio è una passione naturalmente collettiva però è anche un modo per entrare nelle società e nelle economie dell'Occidente il progetto è quello di costruire le football town le chiamano loro cioè delle porzioni di città in cui ci sono stati in cui ci sia un'accademia per il settore giovanile più spazi commerciali oggi siamo qui per stabilire reti e relazioni per favorire la vista del mio omologo sindaco di Fusù questa città che conta 7 milioni e mezzo di abitanti che è la capitale di una provincia importante anche dal punto di vista della geopolitica perché il leader del partito comunista cinese viene da lì e quindi oggi lavoriamo per essere come Marco Polo con 800 anni in più avete proposto il progetto della cittadella dello sport quello che avete presentato qualche giorno fa di questo ci hanno chiesto l'UMI ne parleremo direttamente col sindaco di Fusù allorché dovrebbe essere la seconda settimana di agosto anche in concomitanza appunto al fatto che degli allenatori delle giovanili della Pescara Calcio stanno partendo per la Cina per stare a spese del governo cinese per stare un mese onde diffondere appunto la pratica del football e portare poi ospite qui a Pescara una delegazione di 15 ragazzi cinesi che saranno un po' le avanguardie di questo rapporto che dal calcio appunto mira ad ampliare il proprio ambito di operatività e allora adesso apriamo la pagina di sport di ritorno delle sue intense giornate di mercato a Milano il presidente della Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto ai nostri microfoni l'operazione GANS sarà ufficializzata dopo il primo luglio circa le cessioni dei prezzi dei pezzi pregiati se ci saranno non avverranno con la formula del prestito il servizio di Paolo Renzetti primo luglio si apre ufficialmente il calcio mercato Pescara presidente Sebastiani però già al lavoro da settimane sono arrivati anche nelle ultime ore i primi colpi soprattutto quello di GANS importante un giocatore fortemente voluto da Zeman intanto non è nulla di ufficiale stiamo parlando con la Juve di GANS da qualche giorno prima del 30 non si potrà fare nulla perché hanno sicuramente altre cose da fare ben più importanti e poi la prossima settimana cercheremo di definire in maniera tale da avere i giocatori pronti per il giorno del ritiro questione Coulibaly come procedono le trattative questo giocatore molto seguito che però non vorrebbe giocare il prossimo anno in una squadra primavera ma in una prima squadra Coulibaly sicuramente è un ragazzo che ha fatto 10 presenze in Serie A e nella sua mente c'è di continuare a giocare in una prima squadra quindi è chiaro che gli interessi dei club importanti soprattutto Inter e Juve loro nella loro mente hanno anche la Youth League perché hanno le primavere che fanno la Youth League e quindi sarebbe un pochettino da questo punto di vista un motivo di freno da parte del ragazzo però non c'è fretta c'è tempo vedremo se riusciamo a fare qualche operazione anche intelligente come quella che abbiamo fatto l'anno scorso tra Caprari e Biraghi a proposito di Caprari si è letto sui quotidiani che il Pescara da questa operazione tra Inter e Sandoria incasserebbe una cifra vicina ai 5 milioni di euro è così? più o meno sì le Musciai Piraghi Zampano Benali probabilmente andranno via nella mente di questi ragazzi sicuramente c'è quello di poter giocare un campionato di Serie A però per giocare un campionato di Serie A ci vogliono le richieste io ho già detto a loro a tutti a loro ai procuratori che i giocatori importanti del Pescara non si muovono in prestito secco e quindi siamo già d'accordo su questo punto siccome sono giocatori importanti che con Zeman o da un'altra parte farebbero comunque bene in un campionato come quello di Serie B quindi noi siamo felicissimi se questi 4-5 nomi di cui tu hai parlato restassero a Pescara che significherebbe non andare a prendere dei sostituti ce l'abbiamo in casa penso che un giocatore come Zampano possa essere assolutamente inserito nel modulo di gioco del mister come lo è Viraghi come lo è il capitano come lo sono anche gli altri benali può giocare dove vuole quindi non è un problema però è chiaro che le aspettative dei ragazzi sono diverse Scendiamo in Lega Pro adesso andiamo in casa Teramo perché manca solo l'ufficialità ma la società Biancorossa avrà un nuovo direttore generale si tratta dell'ex DG del Celano Emilio Capaldi che prenderà il posto di Gianluca Scacchioli sul fronte mercato c'è al momento il no del centrocampista Bruno la società sonda i profili di alcuni attaccanti nei giorni scorsi c'è stato un contatto anche con Felice Evacuo Andrea Costantini Emilio Capaldi sarà il nuovo direttore generale del Teramo nel nuovo organigrama prenderà il posto di Gianluca Scacchioli Capaldi per molti anni è stato l'anima del Celano portato dai dilettanti fino alla seconda divisione grazie ad una gestione attenta oculata e improntata sui giovani ne è stato in particolare il direttore generale specie sotto la presidenza Piccone nelle ultime stagioni dopo l'addio dello storico presidente Capaldi è stato anche egli presidente e amministratore unico della società e porta con sé un bagaglio di esperienza non indifferente sul fronte tecnico invece nelle ultime ore il diester Giorgio Repetto ha incassato il nodo di Alessandro Bruno l'esperto centrocampista di Benevento dopo due anni e mezzo al Pescara si accinge a cambiare casacca ma il suono potrebbe non essere definitivo Bruno potrebbe vagliare altre soluzioni in Serie B si registra un interessamento dell'Avellino in caso di mancato accordo con una compagine della cadetteria Teramo potrebbe tornare in auge sempre che Repetto non viri decisamente altrove resta forte l'interesse del Teramo per il trequartista del Bassano Roberto Candido la dirigenza del Teramo è in costante contatto con l'agente del calciatore e a breve si potrebbe chiudere così come il Diavolo resta sempre fortemente interessato al Gambiano di proprietà del Chievo Yusufa Bob Repetto sta lavorando sulla modalità del trasferimento il club Clivense opta per il prestito secco il Teramo vuole il prestito con diritto di riscatto per l'attacco non c'è ancora un obiettivo forte ma la società è vigile e sta sondando alcuni profili qualche giorno fa ad esempio sembra ci sia stato un contatto tra la dirigenza Teramana ed il centro avanti Felice Evacuo che nell'ultima stagione ha giocato a Parma nella prima parte segnando sul rigore il gol del Pari contro il Teramo al Tardini per poi trasferirsi nel girone A all'Alessandria da gennaio è chiaro che però il possente centro avanti di Pompei seppur alle storie dei 35 anni viaggi ad un ingaggio elevato per le casse del club di Campitelli sul fronte delle partenze è stato trovato un accordo sulla buon'uscita con il difensore Raffaele Imparato che così rescinerà il contratto con scadenza giugno 2018 e potrà accasarsi altrove Parliamo di ciclismo adesso presentazione questa mattina a Roseto degli Abruzzi della sesta tappa del Giro d'Italia femminile che parte domani da Aquileia mercoledì prossimo le migliori cicliste del panorama mondiale si sfideranno su un circuito di 29 chilometri da ripetere quattro volte vediamo Assessore Polucci questo per l'Abruzzo è un anno rosa un'estate rosa partita dal blockhouse che terminerà mercoledì a Roseto degli Abruzzi con il Giro d'Italia femminile in mezzo abbiamo avuto anche gli under 23 ma è stata una grande stagione di iniziative volte ad incentivare la promozione territoriale per via e nella sponsorizzazione che abbiamo voluto intraprendere sui grandi eventi un anno dedicato al ciclismo perché riteniamo che sia uno sport dannatamente in positivo popolare cioè rivolto davvero a tutti e che lega professionismo e ovviamente anche la parte dilettantistica e che ha visto davvero l'Abruzzo essere protagonista è una grande vetrina è un grande modo per promuovere il territorio ed è diciamo l'occasione per coniugare oltre alle iniziative sportive anche quelle altre iniziative che legano il mondo dell'economia il fatto di investire sulla ciclopedonabilità e allo stesso tempo mettere insieme tutti quegli eventi che fanno conoscere il tuo territorio e poi fanno conoscere delle realtà in cui è possibile fare turismo sportivo credo che sia davvero la scelta migliore per quanto riguarda il rilancio della nostra regione è veramente un orgoglio per la nostra città tra l'altro io sono un appassionata di bicicletta quindi auspico sempre di più che la bicicletta sia il mezzo di locomozione anche per muoversi liberamente per le città sì sicuramente questo giro rosa è un un quid in più per la città di Roseto in un momento turistico quindi far conoscere le nostre colline il nostro mare perché prende tutta la provincia di Teramo per finire si parte da Roseto e si ritorna a Roseto c'è tantissimo ciclismo quest'anno in Abruzzo ma del resto l'Abruzzo è una regione che storicamente ha fatto tanto ciclismo ha organizzato tanti eventi che ne so siamo a Roseto possiamo ricordare il meeting dei giovanissimi quindi sono tantissimi tantissimi eventi che l'Abruzzo organizza questo è un anno particolare perché anche in sinergia con la regione con la regione Abruzzo abbiamo portato tutti i giri d'Italia qui in Abruzzo con delle bellissime tappe fino ad oggi grandissimi successi sono convinto che anche Roseto sarà un grande successo perché non sarà forse un percorso impegnativo come quelli degli altri giri però una gara a tappe ha bisogno anche di tappe come queste sarà una tappa per velocissimi dove speriamo anche di vedere una ragazza abruzzese di adozione darci vanto Torniamo al calcio adesso è stato presentato ieri il nuovo allenatore del Lanciano Alessandro Delgrosso fortemente voluto dal neopresidente De Vincentis che lo aveva lanciato due anni fa a Francaville Alessandro Delgrosso benvenuto al Lanciano grazie un bentornato ritornato devo dire contento di aver fatto una scelta importante di essere in una società importante come questa ma di avere accanto una città come Lanciano come tutti i frentani al di là di ogni categoria questo per te è un interesse non ha interesse hai sposato il progetto sì ho sposato il progetto non si può rimanere senza calcio dopo che ha fatto la serie B una città come questa io ho visto tante partite in serie B quando ero qui a Lanciano perciò quando mi hanno detto che c'era questa possibilità due o tre settimane fa ho detto subito il mio consenso per cercare di arrivare a questo progetto settimana scorsa ci siamo incontrati abbiamo visto e ho dato la mia disponibilità il presidente l'ha accettata perciò siamo qui per cercare tutti quanti insieme non solo io ma la squadra la tifoseria insomma tutta la città di Lanciano insieme a tutti i frentani ecco io dico sempre questo perché Lanciano è di frentani non è di Del Grosso che Del Grosso oggi c'è domani non c'è ma loro invece ci sono sempre perciò speriamo di iniziare bene cercare di vincere subito questo campionato che non è facile neanche per me però ci siamo messi in trincea perciò risorgeremo come la Fenice diciamo che si autodistrugge per poi ricrescere sempre meglio perciò questo cercare di fare quest'anno per poi vedere un futuro più roseo ecco il tuo programma il tuo progetto su base immagino triennale sì un triennale per cercare di portare questa città questa tifoseria tutti quanti più in alto possibile sarà dura sarà difficile saranno anche dei momenti difficili però è proprio lì che dovremmo stare più accorti più attenti e più uniti perché si è visto un anno senza calcio città di Lanciano un po' rimanere questo era anche il nostro ultimo servizio vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con Velora rubrica di TV6 dedicata al mondo delle due ruote prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 23 tutto buona serata grazie a tutti